La realtà non mi piace più La realtà è scadente Ma è mai possibile che questa città non ti fanno in mente niente a raccontare? La realtà è bellissima La realtà è bellissima Insomma, schizzi, a dire qualcosa rischi A dire una cosa raccontata? Sì! E di mail! La realtà è bellissima La realtà è bellissima Grazie a tutti! Grazie a tutti!